Buongiorno a tutti gli amici appassionati di ginnastica, siamo in diretta dalla sede della Feder Ginnastica in Viale Tiziano 70 a Roma perché oggi si svolgeranno i sorteggi per la Final Six di ginnastica ritmica in programma il 30 aprile al Palagianneasti di Torino con l'organizzazione della società locale dell'Eurogymnica. Sono qui con il presidente Gerardo Tecchi, con la team manager della sezione Pola Porfiri e con il segretario generale Roberto Pentrella. Oggi procederemo innanzitutto con il sorteggio per l'ordine di salita in pedana dei play-off play-out di Serie B e Serie C che si svolgeranno il sabato 29 aprile sempre appunto al Palagianneasti di Torino e poi procederemo con il sorteggio delle semifinali della Final Six che assegnerà lo scudetto 2023. Allora direi di iniziare innanzitutto dando il buongiorno e anche chiedendo due paroline al presidente in vista di questo importante appuntamento per la ginnastica ritmica. Buongiorno a tutti, iniziamo un periodo per la ritmica importantissimo, una sezione che sta andando molto molto bene d'altronde non posso dire niente per lo stesso motivo per gli altri perché sia l'artistica femminile che l'artistica maschile come sapete hanno conquistato dei successi eccezionali. La maschile ha vinto i campionati europei, cosa che non c'era mai successa nella nostra lunga vita e la femminile ha riconfermato una posizione di prestigio perché è risalita anche quest'anno sul podio seconda e classificata argento e quindi tutto va per il meglio soprattutto pensando poi alle finali per attrezzo che sicuramente daranno altre soddisfazioni al nostro mondo. Dicevo che è importante per la ritmica perché ci avviciniamo a un periodo molto denso di appuntamenti ma tutti uno dietro l'altro che ci portano fino ai campionati del mondo di Valencia. Avremo la Final Six, poi i campionati europei, gli assoluti, quindi tutta una serie di appuntamenti che renderanno i prossimi tre mesi fondamentali per la ritmica per questo sport. E allora, adesso sistemiamo tutto per procedere appunto al sorteggio dei tre gironi di semifinale della Final Six e intanto direi di andarci a vedere quella che è stata la classifica al termine delle tre prove di Regular Season una stagione che aveva preso il via a Cuneo per poi snodarsi tra Desio e Ancona al termine della quale appunto è stata stilata la classifica generale che vede in testa la ginnastica Fabriano con 90 punti speciali, l'Udinese al secondo posto con 79 veramente a brevissima distanza terza la Motto di Viareggio con 77 punti speciali, quarta la Polisportiva Varese con 67 quinta l'Armonia d'Abruzzo di Chieti con 59 e infine l'ultima qualificata alla Final Six è proprio la società locale che organizzerà la sfida Scudetto, l'Eurogymnica di Torino con 57 punti. Come si svolge il sorteggio? Le prime tre classificate fanno parte delle teste di serie quindi verranno estratte per prime e verranno abbinate a ciascuno dei tre gironi A, B e C successivamente andremo ad estrarre le altre tre squadre che verranno dunque abbinate ai tre gironi quindi scopriremo le accoppiate che si andranno a sfidare. Final Six come di consueto negli ultimi anni in due fasi queste semifinali, le vincenti dei gironi si andranno a sfidare poi nella finalissima A3 che assegnerà lo Scudetto. Cominciamo con il sorteggio semifinali di Final Six, estraiamo le teste di serie abbinandoli ai tre gironi Andiamo Paola, prima il segretario Facciamo una pallina per uno adesso Sempre il solito problema, non si apre la pallina Prima testa di serie Udinese L'Udinese, l'Asu di Udine, prima testa di serie estratta, inserita nel girone A Andiamo ad estrarre la seconda testa di serie che verrà dunque inserita nel girone B Ci volevano i tamburi Ginnastica Fabriano La seconda testa di serie, la ginnastica Fabriano che guida la classifica al termine della regular season viene inserita nel girone B E infine l'ultima Quale sarà? Non è Toscana Vediamo Raffaello Motto di Viareggio E la terza testa di serie, la Raffaello Motto di Viareggio viene inserita nel girone C Ecco dunque intanto il quadro dopo l'estrazione delle teste di serie L'Udinese nel girone A, la ginnastica Fabriano nel girone B e la Motto Viareggio nel girone C Adesso andremo ad estrarre le altre tre società in modo da abbinarle alle teste di serie C'è una sfida tra chi comincia Vai segretario La questione di responsabilità della team manager che essendo coinvolta non vuole critiche Polisportiva Varese abbinata quindi alla testa di serie del girone A quindi con l'Udinese Primo girone completato il girone A vedrà in semifinale la sfida fra l'Udinese e la polisportiva Varese Andiamo a vedere invece chi andrà a sfidare Fabriano Detentrice dello scudetto nel girone B Questa è tosta Eurogimnica Torino Eurogimnica Torino società organizzatrice della Final Six Club del presidente Luca Nurchi con lo staff ormai rodato guidato da Marco Napoli se la vedrà con la ginnastica Fabriano quindi scontato ma concludiamo comunque il sorteggio l'ultimo abbinamento del girone Armonia d'Abruzzo girone con la sfida Raffaello Motto Viareggio e l'ultimo girone il girone C Raffaello Motto di Viareggio contro Armonia d'Abruzzo lo vedete anche nella grafica in sua impressione saranno queste le sfide della semifinale della Final Six chiaramente la vincente di ogni girone andrà poi a giocarsi la finalissima per assegnare lo scudetto prima di salutare tutti vorrei insomma far dire due parole anche a Paola Porfiri in vista della Final Six ma anche dei grandi appuntamenti internazionali che ci aspettano con la ginnastica ritmica non ultimo la World Cup che quest'anno si sposta da Pesero a Milano Sì, beh, intanto ritorniamo a Torino con la Final Six e questo è un bel evento, una bella cosa una società che sa organizzare quindi sarà un bellissimo spettacolo e poi, beh, adesso abbiamo tante coppie abbiamo Tashkent in questo momento in cui c'è la Sofia Raffaelli e poi abbiamo Baku e poi avremo il campionato d'Europa e poi avremo il challenge di Cluji e poi la Coppa del Mondo che si sposta, come hai detto tu, da Pesero a Milano al Forum Adassago però ecco, sarà uno spettacolo sempre più bello, impressionante e mi auguro che facendolo in Alt'Italia avremo anche un grandissimo pubblico Tanti gli appuntamenti internazionali insomma che aspettano la ginnastica ritmica ma non soltanto, segretario insomma un commento anche da parte sua sugli ultimi successi dell'artistica Io prima che segretario sono un appassionato di questo sport e un sostenitore di tutti i nostri atleti che continuano a emozionarci con le loro prestazioni e a darci tante soddisfazioni a tutti noi che siamo qui e lavoriamo per loro perché noi non dimentichiamo che siamo qui perché ci sono delle persone che hanno entusiasmo di praticare la ginnastica e stiamo qui per loro E direi assolutamente di chiudere con questo bel messaggio del nostro segretario generale ringrazio il presidente Gerardo Tecchi ringrazio appunto Roberto Pentrella e la team manager della dinastica ritmica Paola Porfiri l'appuntamento vi ricordo per il weekend del 29 e 30 aprile al Palagianni Asti di Torino quindi per tutti coloro che potranno esserci di persona è veramente un appuntamento imperdibile per coloro che non ci potranno essere invece alle ore 14 di domenica 30 aprile in diretta sulla 7 per la Final Six di ginnastica ritmica Torniamo in diretta qui dalla sede della Federginnastica a Roma per ripetere i sorteggi per l'ordine di salita dei playoff playout di Serie B e Serie C per un errore di trascrizione nelle grafiche sono state inserite le ultime due squadre classificate della Serie B che però sono già retrocesse al termine della regular season quindi ovviamente ripeteremo il sorteggio con la settima, ottava, nona e decima di Serie B e sempre quelle che saranno le seconde classificate delle quattro zone tecniche di Serie C Serie C che si concluderà appunto questo weekend il segretario generale e il presidente sono in questo momento impegnati quindi al mio fianco sempre la team manager della sezione Paola Porfiri e la referente per le relazioni internazionali Cristina Casentini procediamo con il sorteggio, sempre otto le squadre per determinare esclusivamente l'ordine di salita innanzitutto buongiorno a Cristina che prima non avevo il piacere di avere al nostro fianco iniziamo Paola seconda classificata zona tecnica 1 La seconda classificata della zona tecnica 1 sarà la prima società ad aprire il playoff di Serie B e Serie C che andrà in scena, lo ricordo, il 29 aprile al Palagianni Asti di Torino con l'organizzazione dell'Eurogymnica il giorno successivo andrà in scena poi la Final Six di cui abbiamo fatto il sorteggio delle semifinali procediamo con la seconda squadra che scenderà in pedana Lazio Ginnastica Flaminio Lazio Ginnastica Flaminio seconda squadra nell'ordine di lavoro di questi playoff terza squadra a scendere in pedana Iris Firenze Iris Firenze la terza squadra e andiamo avanti con la quarta delle otto società impegnate Ginnica 3 Roma Ginnica 3 Roma il quarto club di questi playoff playout di Serie B e Serie C quinta società a scendere in pedana seconda classificata zona tecnica 4 e quella che si piazzerà come seconda classificata nella zona tecnica 4 sarà la quinta società a scendere in pedana ricordo che si concluderà questo weekend il campionato di Serie C le prime classificate di ogni zona tecnica saranno promosse in Serie B mentre le seconde classificate appunto svolgeranno questo playoff playout per le ultime due o promosse o salve nella categoria Rittimica 2000 Quartu Sant'Elena la sesta società è la Rittimica 2000 di Quartu Sant'Elena mancano soltanto le ultime due società che scenderanno in pedana nell'ordine di lavoro di Torino seconda classificata zona tecnica 2 la penultima sarà il club secondo della zona tecnica 2 e infine andremo a chiudere questo ottetto di sfida zona tecnica 3 seconda classificata con la seconda classificata della zona tecnica 3 quindi l'ordine di lavoro dei playoff playout di Serie B e Serie C sarà la seconda classificata della zona tecnica 1 la Lazio Ginnastica Flaminio, l'Iris Firenze, la Ginnica 3 di Roma la seconda classificata della zona tecnica 4 la Rittimica 2000 di Quartu Sant'Elena la seconda classificata della zona tecnica 2 e infine la seconda classificata della zona tecnica 3 ci scudiamo con le società Atena e Riboli che erano le ultime due classificate della Serie B e quindi sono già retrocesse ma insomma a loro i migliori auguri per risalire la categoria questo appunto l'ordine di lavoro per quelli che saranno i playoff playout di Serie B e Serie C in programma il 29 aprile, sabato 29 aprile al Pala Gianni Assi di Torino rinnovo l'invito per chiunque potesse a essere presente al palazzetto e godersi lo spettacolo anche perché il giorno successivo domenica 30 andrà in scena il playoff di Serie 2 per determinare e decidere l'ultima promossa nella massima categoria e poi dalle 14 in diretta sulla 7 la Final Six di ginnastica ritmica con le semifinali e le finali che assegneranno lo scudetto 2023 ringrazio Paola Porfiri grazie e ringrazio in bocca al lupo a tutti ovviamente Maria Cristina Casentini grazie in bocca al lupo a tutti un saluto e alla prossima